Ha avuto inizio alle 15.51 di ieri la gettata del primo basamento del nuovo viadotto Polcevera. Si apre così per la città di Genova e per l'Italia tutta un nuovo capitolo dopo il crollo il 14 agosto del 2018 del tristemente noto Ponte Morandi. Il disastro costò la vita a 43 persone. L'inaugurazione di ieri dopo una fase realizzativa delle fondazioni in progress da più di tre mesi. Un segnale forte per gli abitanti della città considerando inoltre che i tempi legati al termine dei lavori serratissimi parlano di una consegna prevista per aprile del 2020. Tra le dieci imprese impegnate nella ricostruzione del ponte anche un pezzo di valtellina rappresentato dalla Cossi Costruzioni S.P.A. La società fu salvata ad aprile da quella che viene tuttora annoverata quale una limpida azione di solidarietà e sussidiarietà in seguito alla crisi finanziaria del gruppo condotte S.P.A., ex detentrice di una consistente parte di Cossi, grazie al provvidenziale intervento di Banca Popolare di Sondrio. Il gruppo Cossi S.P.A. si è visto assegnata all'esecuzione delle opere civili, le operazioni di movimento terra e della ricostruzione del lato diponente del viadotto.